Buongiorno a tutti gentili telespettatori di Toscana TV e Firenze TV, ben trovati a Refresh, buona giornata e benvenuti da Andrea Vignolini, siamo pronti per la rassegna stampa di oggi, leggeremo i titoli dei quotidiani in edicola, li commenteremo con i nostri ospiti, ripercorreremo le notizie principali con i servizi di Toscana TV, buongiorno a tutti e ben trovati, è martedì 22 agosto 2023, partiamo dalle prime pagine di oggi con il Corriere della Sera, l'apertura la leggiamo nel taglio alto, manovra, Giorgetti frena, non si può fare tutto, è il titolo, Meloni e gli alleati, patto per evitare gli scontri, così il taglio alto del Corriere della Sera, poi vedete nel dettaglio la norma sulle banche, gli extra profitti, la scelta e i dubbi di tassare ovviamente gli extra profitti delle banche, in particolare spiega Federico Fubini l'idea di finanziare il taglio delle tasse con l'imposto sugli extra profitti delle banche, ci sono alcuni salti logici e forse si pensa più alla politica che all'economia. E poi parla l'ex presidente francese Sarkozy, che parla della crisi del 2011, io chiedemmo a Berlusconi di dimettersi, questo rivela l'ex presidente francese che ne lo racconta in un libro con la sua versione sulle vicende del 2011, che portarono alle dimissioni da premier del leader di Forza Italia. A centropagina poi Savini difende il generale Vannacci, il leader leghista, chiama il militare, compro il libro, ingiusto e rogo, il PD, la premier dica con chi sta. Parla anche il ministro della difesa Crosetto su Vannacci, io isolato, non ho paura, la destra rispetta le regole, c'è questa intervista al ministro Crosetto dove lo stesso spiega ovviamente di aver agito sulla vicenda del generale Vannacci da ministro più ovviamente che non da politico. Poi a centropagina, vedete, parla anche l'ufficiale, l'intervista di Giulio Gori, ma non sono un mostro, in molti sono con me, non sono un mostro, il generale Vannacci replica le polemiche e ribadisce, non ritratto ciò che ho scritto e in molti la pensano come me. E poi a centropagina la fotonotizia, la bufera sul presidente della Federcalcio Spagnola, lascia l'incarico, il bacio del presidente della Federazione Spagnola Rubiales alla calciatrice, è hermoso oggetto di polemiche dopo ovviamente la vittoria della Spagna ai mondiali femminili di calcio. Bacio alla calciatrice con la Spagna che si ribella. E poi l'intervista col governatore del Veneto, Luca Zaia, troppi sbarchi, l'Italia non regge, capisco i sindaci, ora l'Unione Europea si svegli. Quindi questo è il governatore del Veneto che in particolare si chiara con i sindaci per le difficoltà sull'accoglienza, li capisco, ha detto Zaia, che invita anche l'Unione Europea a svegliarsi. Così dunque la prima pagina del Corriere della Sera. Andiamo sulla prima pagina del quotidiano La Repubblica, estrema destra, Salvini sfida Meloni sul caso Vannacci, crepe nel governo, il leader leghista Isola Crosetto e telefona al generale omofobo, comprerò il suo libro, la condanna a rogo e ragionevole, spiega il leader della Lega. La premier, irritata con l'alleato, mi aveva promesso niente concorrenza sleale, il ministro della difesa, libertà di parola, ma difendo le istituzioni. E poi il dossier, leggiamo sulla prima pagina di Repubblica, dalla Fornero alla Flat Tax, così le promesse elettorali restano nel cassetto, quello che il governo nella prossima legge di bilancio non riuscirà a varare. A centropagina, salvate il soldato Dimitri, è il titolo sulla prima pagina, Olga, 63 anni, ha perso due dei suoi cinque figli, Evgeni e Mikhail al fronte, ora vuole salvare Dimitri. L'appello di una mamma russa dove aveva perso due dei tre figli, arruolati. Sempre sulla prima pagina del quotidiano La Repubblica, con invece le notizie che riguardano da un lato gli esteri, mappamondi, summit dei BRICS, Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, con il presidente cinese che vuole un nuovo G7 a sua guida e poi quello che accade invece in Italia a Palermo, le chat dell'orrore dove si contrattano le foto dello stupro. Questo accade sul social telegram dove ovviamente si contrattano i video degli stupri. E poi sempre sulla prima pagina del quotidiano La Repubblica, vedete l'ambiente, emergenza, clima, il Papa, aggiorno, l'enciclica, laudato sì, questo spiega il quotidiano La Repubblica. Andiamo anche sulla prima pagina del quotidiano La Nazione, l'apertura, la manovra di Giorgetti, non si può fare tutto, poche risorse, il ministro avverte i colleghi, il governo lega innanzitutto, aiuti e redditi medio-bassi, poco margine per le pensioni, via libera del fisco all'algoritmo che controlla i conti correnti, intervista a Calenda, accordo possibile con Meloni sul salario minimo. E poi a centropagina vedete stupro, caccia alle chat del Branco, Palermo, gli interrogatori dei sette arrestati, solo uno confessa. E poi sempre con le notizie che arrivano dalle città, la notizia in questo caso arriva dalle Cinque Terre, lo sceicco va al ristorante e lascia 1800 euro di mancia ai camerieri. Nel taglio alto poi le notizie che arrivano ovviamente anche dalla Toscana, le pale eoliche in Maremma, interviene per il governatore Gianni, rispettiamo l'ambiente ma non manchi il coraggio delle scelte, così il governatore sulla scelta appunto della realizzazione di un parco eolico in Toscana. Andiamo anche sulla prima pagina del quotidiano del Tirreno, l'edizione è quella di Firenze, Prato e Empoli, Nardella scrive a piante e dosi, servono 200 agenti in più, il sindaco albiminale è urgente adeguare i contingenti. E poi sempre sulla prima del quotidiano del Tirreno, vedete l'invasione del granchio blu, il dibattito sulla specie aliena, è un flagello o una risorsa? Questa è la domanda che ci si pone. Andiamo sulla prima pagina del quotidiano La Stampa, l'apertura governo in tilt su Vannacci, Salvini difende il generale, Meloni contrariata, Matteo mi ha deluso, aveva promesso lealtà. E poi il commento di Giovanni De Luna che spiega la divisa esige responsabilità. Sempre sulla prima pagina del quotidiano La Stampa, vedete il tema che riguarda anche l'economia, Giorgetti ammette manovra complicata l'idea di usare il PNRR per gli aiuti alle famiglie. E poi a centro pagina portiamo in classe le vittime, la proposta di Valditara a Palermo, confesso a un ragazzo del branco rilasciato ricorso del PM, lo stupro e il pentimento che non basta, spiega la stampa sulla prima pagina di oggi. Libero sulla prima pagina soldi, pensioni e dolori, torna il realismo, Giorgetti al meeting lancia l'allarme sul sistema previdenziale, nessuna riforma terrà con questo tasso di natalità. E attenti alla finanziaria, non si può fare tutto. E poi a centro pagina karaoke e chitarra, Schlein da piano bar, l'imbarazzante deriva pop del Partito Democratico. E proprio su questo c'è un titolo del quotidiano, il riformista decisamente emblematico, Torna il PDS è il titolo. Vedete ovviamente la foto della segretaria del PD, di Ellie Schlein, che canta appunto in questo palco allestito, sopra, diciamo così, a questa loggia di legno, c'è un telo con il logo dei democratici del Partito, dei democratici di sinistra. Quindi torna il PDS, spiega il riformista, sulla prima pagina di oggi. Andiamo anche sulla prima pagina del quotidiano del giornale, l'apertura Fisco Mai Amico. Così Mr. Tasse lancia la sfida al governo Meloni. Ruffini, presidente dell'Agenzia dell'Entrata, smentisce la Premier e rivendica il pugno di ferro con i contribuenti, esattori o persecutori? Andiamo anche sulla prima pagina del Fatto Quotidiano. La controoffensiva la fa il Papa, col generale Colomba Milley. Francesco riceve l'ufficiale numero uno, Nato, che da nove mesi invoca i negoziati. Poi andiamo sulla prima pagina del quotidiano La Verità. Salvini si schiera col generale. Il caso che scuote il centrodestra. Il leader della Lega Telefona, Vannacci, non c'è un grande fratello che dice che cosa si può leggere. Quel libro aveva il diritto e il dovere di farlo. Al difesa del militare, anche provita, contro il vicepresidente della Camera Mulet, il presidente di Gaynet e il PD. L'ex ministro Trenta a Crosetto, non l'avrei rimosso, spero non paghi, le denunce sull'uranio. E poi a centropagina le confessioni della sua banda che inchiodano D'Alema nell'affare delle armi. Alla Colombia spiega il quotidiano La Verità. Siamo sulla prima pagina del quotidiano Il Tempo. Misura contro gli stupri, castrazione chimica subito. Il vicepremier Salvini rilancia la proposta della Lega per punire le violenze sessuali. L'idea è quella di introdurre il blocco androgenico anche in via sperimentale. Sterilizzazione già usata dai 13 paesi europei, 8 stati americani e in molte zone del mondo. spiega Il Tempo sulla prima pagina di oggi. Andiamo anche sulla prima pagina del messaggero che invece apre con la benzina. Piano taglia accise, patto tra Meloni e il leader leghista. L'extragettito IVA per calmirare il prezzo dei carburanti. Giorgetti, manovra complicata, ipotesi tredicesime detassate dal 2023. Un miliardo dai giochi, spiega Il Messaggero. Sulla prima pagina del quotidiano Il Manifesto. Pozzo nero è il titolo di apertura. Colpi di mortaio, esecuzioni, fosse comuni, il rapporto shock di Human Rights Watch. Migliaia di migranti etiopi uccisi dai soldati sauditi di Mohammed bin Salam, mentre i leader del mondo fanno la fila alla corte dell'ex Paria e del suo petrolio. Questo accade appunto in Etiopia e lo spiega oggi Il Manifesto. Sul Sole 24 ore invece le notizie che riguardano l'economia. Borsa, usare l'intelligenza artificiale, radioppa la crescita anno a dei titoli. Secondo ovviamente una ricerca del National Bureau of Economics Researcher di Cambridge, di Boston, i titoli dello Standard & Poor's 500, uno degli indici di Wall Street, quelli più esposti all'impatto dell'intelligenza artificiale. Gli studiosi considerano, considerando il periodo di lancio di chat GPT, lo scorso 31 marzo, hanno scoperto che le società nei portafogli hanno massimizzato sull'intelligenza artificiale un extra guadagno medio giornaliero dello 0,4%. Questo ovviamente è un numero importante. Chiudiamo questa prima parte di Rassegna Stampa con la Rassegna Stampa sportiva, la Gazzetta dello Sport, il titolo Bollicine Milan, anche il diavolo al tavolo delle grandi è il titolo di apertura, facendo riferimento appunto alla vittoria del Milan. ieri per 2-0 a Bologna. A Bologna i nuovi subito in luce, Reinders assist per l'1-0 di Giroud, Pulisic firma il 2-0, Pioli può sorridere. Così dunque la Gazzetta dello Sport ne dicola oggi. Ci fermiamo per dare lo spazio da regia, torniamo tra poco su Toscana TV e Firenze TV con Refresh. Restate con noi. Siamo nati per difendere il potere di acquisto di ognuno con prodotti di qualità per tutti. Per questo alla Cop ci sono i prezzi pop. Perché la vostra storia è anche la nostra. La Cop sei tu. Come vorresti che fosse il futuro? Lo abbiamo chiesto a chi dovrà viverlo e costruirlo giorno per giorno. Noi di Estra ascoltiamo questi desideri e li trasformiamo in progetti, chiedendoci quale pianeta vogliamo lasciare alle nuove generazioni. E la nostra risposta è quello che vorrebbero. Si può fare una poesia che parli di risparmi d'energia. Scopri come sul sito bilancio di sostenibilità punto estra punto it. Fede, pronta a gonfiare un canotto in tempi record? Prontissima! Via! Vinci come me le sfide di ogni giorno con Sustainium Plus e la sua formula specifica a base di vitamine e complesso di aminoacidi. Sustainium Plus, dai energia alla tua energia. E dopo i 50 anni, Sustainium Plus a 50 più con Actifull e Menarini. Sono iscritto in FIOM per essere consapevole dei miei diritti e farli valere. Perché la condivisione e l'unione di coscienze hanno un valore immenso. Perché il senso civico è al centro della nostra battaglia. Sono iscritto alla FIOM perché mi piace stare dalla parte giusta. Perché insieme possiamo fare di più. Ho scelto la FIOM per difendere i miei diritti e dare voce alle mie paure. Perché è lotta resistenza e ostinatamente antifascista. Campagna di tesseramento FIOM CGL. Unisciti a noi. Prisma, la casa delle tecnologie emergenti, lancia la terza call to action per le start-up del tessile e di Mono. Se lavori per l'innovazione del tessile in moda con intelligenza artificiale, blockchain e Internet of Things, potrai essere selezionato dal progetto, rivolto a medie, piccole e micro imprese. Entrerai nel network di accelerazione di nana bianca. Potrai sfruttare tecnologie emergenti nell'area ricerca e sviluppo. Prendere parte a incontri di matchmaking tra aziende e lavoratori universitari. E avrai visibilità su canali comunicativi di Prisma e Startup Ita. Al centro di tutto questo, Prato, primo distretto tessile in moda al mondo, con oltre 7.000 imprese, di cui 2.500 tessile. Città green e digital. Candidata a città carbon neutral 2030. Con Prisma e con i partner. Insieme per rinnovare il tessile e la qualità del made in Italy. Diventa protagonista del futuro. Vivere Viaggiare Volare Non aspettare 90 destinazioni dirette da Firenze e Pisa. Toscana Aeroporti Eccoci qua, gentili telespettatori di Toscana TV e Firenze TV. Di nuovo ben trovati e refresh. Buona giornata da Andrea Vignolini. È martedì 22 agosto 2023. Siamo pronti per leggere insieme i titoli dei quotidiani di oggi. Abbiamo già letto le prime pagine. Adesso è il momento di sfogliare all'interno i giornali con tutte le notizie del giorno. Siamo a pagina 2 del Corriere della Sera. L'apertura, vedete, Vannacci, solidarietà da Salvini. Tajani invoca prudenza. Siamo sul caso ovviamente del generale Roberto Vannacci, che nel libro Il mondo contrario scrive in vettive contro la comunità LGBT e la parità genere. È a favore della legittima difesa armata. Il ministro della difesa Crosetto ha parlato di fabricazioni personali di un generale in servizio e annuncia che sarà avviato un esame disciplinare. Ovviamente lo Stato Maggiore della difesa nel discorso ha deciso di sollevare Vannacci dall'incarico di comandante dell'Istituto Geografico Militare di Firenze. Proprio sul caso Vannacci arriva la società invece dal leader della Lega Matteo Salvini con il ministro degli italiani e vicepremier che invoca prudenza. Il capo del Carroccio lo chiama, leggerò il suo libro, il leader di Forza Italia sul militare, chi ha certi ruoli deve essere cauto, il segretario leghista di Modena, essere gay è contro natura e le razze esistono. E ovviamente questa frase scatta la polemica. C'è anche un'intervista a Vannacci realizzata ovviamente da Giulio Gori, il generale, il leader leghista, mi fa piacere che mostri interesse per un servitore dello Stato. Non sono un mostro, rivendico il diritto di criticare. La Querel ha moltiplicato le vendite del libro? Domanda a Vannacci. Non sono né scrittore né faccio marketing, non ho scritto il libro per fare soldi e per diventare ricco, ma solo per esprimere quello che penso. Ha detto no a Forza Nuova che l'ha proposta per le elezioni supplettive a Monza. Io faccio il soldato, ma ringrazio chiunque mi fa delle offerte, perché significa che ha fiducia in me. Lei ha dichiarato la propria obbedienza gerarchica al ministro Cosetto e ancora così dice confermo al 100%. La vicenda rischia di essere un pesante intoppo per la sua carriera, bisogna vedere come finirà, ma io sono diventato generale di divisione grazie a quello che ho fatto quotidianamente, eppure non avevo mai pensato né cercato di fare carriera. Quando ero giovane non credevo di poter arrivare oltre il grado di tenente colonnello, così ovviamente il generale Vannacci. E poi c'è anche un'intervista ovviamente al ministro Cosetto, che dice sì al diritto di opinione, ma io ho agito da ministro, non ho parlato da politico e non mi sento isolato. Il titolare della difesa, chi è di destra, ha rispetto delle regole. Il cambiamento di funzioni non l'avrei nemmeno fatto, proprio per spegnere il caso sul nascere, ed evitare che Vannacci diventasse un martire. Le persone con cui ho parlato e che poi hanno agito avrebbero preteso molta più durezza, ma io sono, e il resto, un garantista. Sul fuoco amico, perché c'è stato anche fuoco amico, ovviamente in particolare dal centrodestra e da Fratelli d'Italia, non considero amico chi mistifica la realtà. Alemanno non mi sono pentito di averlo difeso a suo tempo, anche se sapevo che tipo di persona fosse. Sul Palazzo Chigi spiega, non è una vicenda sulla quale va coinvolto il Premier, il libro l'ho letto, non è nemmeno innovativo nell'attaccare il pensiero unico, così nel quotidiano il Corriere della Sera. Due approfondimenti, il primo a Castelfranco Veneto, il cartello in libreria, non chiedeteci quel testo, in particolare proprio questo cartello in libreria a Castelfranco Veneto, dice, si invita la gentile clienteria a non chiederci il libro di Vannacci, e poi l'altro che riguarda da opposizioni opposte Alemanno e Rizzo Uniti, secondo ovviamente i due esponenti politici, il generale Vannacci paga le passate denunce sull'uranio impoverito. Questa è la questione. Intanto ieri a Viareggio, intervistato da Stefano Zurlo, Vittorio Sgarbi, all'incontro ovviamente, agli incontri dell'Hotel Principe, è tornato sulla vicenda, il servizio di Toscana Tg. Senti, ma diamo un po' le pagelle ai ministri, dai. Ci sono nei ministri? Vabbè, dai, però se... Vabbè, Crosetto. Crosetto? Crosetto. Crosetto, dieci. Tradotto? Quattro. Poi che abbiamo ancora? Vabbè, San Giuliano non te lo chiedo. San Giuliano dieci. Che rimane dieci? Otto. Otto. Sempre... E' un po' così bisogna. Giorgetti? Giorgetti? C'è ancora Giorgetti? Giorgetti c'era una volta. C'era una volta. È stato assorbito dalla Meloni. Giorgetta? Sì, è stato melonizzato. Sai che ha fatto la vignetta Giannelli, no? Ah sì, ha fatto. L'altro giorno che c'era, discutevano degli extra profitti, c'è Giorgetti verplesso e lei dice io sono Giorgetta. Eh sì. Sì, lo so, Giorgetti è un po', è un po' così sommerso dall'attivismo del Presidente del Consiglio, lo so, sette. Tradotto? Cinque. Tajani? Tajani? Sì, non è che mi puoi... Cioè, sei tu al governo, non io. Ma Tajani non me lo ricordo, è ministro di che cosa Tajani? Casellati. Casellati? Il Presidente del Senato? Beh, era. Sei rimasto un po' indietro. Sì, è diventato il ministro delle riforme. Non si è vista una riforma? Vabbè, siamo ancora agli inizi. È una grande discrezione. Siamo ancora agli inizi, però. Siamo ancora agli inizi. No, ha ragione lei. Cioè, la riforma deve essere in dolore. Cioè, deve arrivare una riforma e tu... Quindi, ottimo, dieci. Quindi sei il primo caso di uno al governo che sta all'opposizione, però. Io sono il punto più di sinistra del governo. Ma anche della sinistra, forse, no? La sinistra è sparita. Anche perché sono gran nemico della Schlein. Ma perché sei armocromista, tu? Guarda come sono... Non trovi mai uno così bello, verde? Voto alla Schlein? Dieci. Tradotto? Due. Va bene, dai il voto finale, Giorgia? Giorgia? E manco questa conosci, ma cioè, dove stai? No, Giorgia, Giorgia Meloni, intendi di dire. Si, si, Giorgia. Si presume. No, pensavo alla mia fidanzata, Giorgia. No, non volevo riaprire questo capitolo. Giorgia Meloni mi pare particolarmente brava. Ah, vuoi salvare il tuo posto? No, no, per quello mi pare brava. Ovviamente questa era Sgarbi che dava le pagelle ai ministri del governo Meloni. Siamo all'interno del Corriere della Sera, pagina 5, e in primo piano c'è il tema dei migranti, e emergenza minori, Bonacini, si rischiano le tendopoli. Arrivati altri 2 mila non accompagnati, Fratelli d'Italia accusa l'Anci, sta col PD, la replica, questo è un problema di tutti. E c'è anche un'intervista al governatore del Veneto, Luca Zaia, che spiega, i sindaci leghisti infuriati hanno tutte le ragioni, i signori dell'Unione Europea non stanno risolvendo il problema, Zaia l'intera Africa in Italia non ci può stare. Ci sono notizie dei nuovi centri di permanenza per il rimpatrio? Questa è una buona domanda, ovviamente, che viene fatta da Marco Cremonesi al governatore Zaia. Noi non abbiamo notizia, ma se è vero che solo l'11% circa ha titolo per restare, tutti gli altri devono essere rimpatriati. Ma su 200 mila persone come si fa? Come si rimpatriano 150 mila persone? A me pare svuotare il mare con un secchio, non sto dicendo che sia sbagliato, ma se questi sono i numeri, come facciamo? E questa è un'altra buona risposta, ovviamente, del governatore Zaia. All'interno ancora del Corriere della Sera, con tanti temi che riguardano anche in particolare quello che accade sul fronte dell'alluvione, in particolare in Emilia Romagna, vedete alluvione, l'attesa per i fondi, arrivati finora solo 230 milioni. Il governo ha previsto 4,5 miliardi, gli interventi più urgenti li stanno pagando i comuni. In Emilia Romagna i sindaci, le province e la regione hanno anticipato 436 milioni. Ricordiamo che l'ammontare dei danni stimati dell'alluvione per Emilia Romagna, Toscana e Marche è di 8,8 miliardi. I soldi che sono stati stanziati dal governo Meloni con due decreti 4,5 miliardi, 36 mila gli sfollati dopo l'alluvione, 17 morti, le frane sono state 936 con 23 fiumi esondati. Poi ovviamente i titoli sempre all'interno del quotidiano Il Corriere della Sera con una notizia che ci riporta al 2011 e al libro Le Temps des Combats che ha realizzato l'ex presidente francese Sarkozy, che ha pubblicato l'ex presidente francese Sarkozy. La verità di Sarkozy, io e Angela Merkel chiedemmo a Silvio di dimettersi, esce in Francia l'autobiografia dell'ex presidente. Vedete il vertice il 4 ottobre del 2008, allora Premier Silvio Berlusconi con Angela Merkel e Nicolás Sarkozy all'Eliseo in occasione di un summit europeo. Ma rivela ovviamente Sarkozy che fu una decisione condivisa con Angela Merkel, quella di chiedere a Berlusconi di dimettersi e spiega che ci fu un momento di tensione quando gli hanno spiegato che il problema dell'Italia era lui. Questo rivela Sarkozy. L'altra grande che arriva agli esteri che in questo momento genera moltissime polemiche riguarda la bufera sul capo del calcio spagnolo. Quel bacio è violento, si dimetta. Critiche per il gesto verso la calciatrice Ermoso dopo la vittoria ai mondiali. Dopo la vittoria della Spagna ai mondiali femminili, il presidente della fede del calcio Luise Rubiales ha baciato sulle labbra la capocannoniera Jenny Ermoso. Questo spiega il quotidiano Il Corriere della Sera. E su questo ovviamente c'è moltissima polemica. Andiamo avanti sempre con i titoli del giorno. In questo caso siamo a Palermo. Violenza di gruppo, scarcerato, il minore. Su Telegram caccia al video dello stupro. Palermo, i PM si oppongono al trasferimento in comunità per i più giovani. Erma Almeta spiega ci vogliono per esemplari. Ma sulla vicenda di Palermo, comunque la riguarda, quello che leggiamo che ha dell'incredibile lo troviamo su Repubblica. Così apriamo anche la segna stampa di Repubblica. Eccoci qua. Su Telegram, le chat della vergogna, avete il video dello stupro di Palermo? Nei canali di Revenge Porn si susseguono le richieste di materiale, soldi e foto come moneta di scambio. Decine di utenti chiedono alla comunità il video della volenza di gruppo o singoli screen per creare dei deep fake. Questo spiega il quotidiano La Repubblica, riportando ovviamente quello che accade nelle chat di Telegram. E poi c'è l'intervento del professor Vittorio Lingiardi che dice, a caccia di trofei e affascinanti dal male. Quei ragazzi temono le donne, spiega il professor Lingiardi, psichiatra. Serve di educare, disincentivando paternalismo e prepotenze maschili, inaccettabile il concetto che la donna se l'è andata a cercare. Questo spiega il quotidiano La Repubblica di Firenze. Andiamo avanti sempre con i titoli del giorno e ovviamente le notizie della giornata. A pagina 2, Giorgetti mette le mani avanti, manovra non si può far tutto. Al meeting CL, bagno di realtà per la maggioranza. Il ministro dell'economia conferma le difficoltà che ha davanti il governo. Messaggi anche a Bruxelles sul patto di stabilità e il PNRR. Il discorso all'indomani del summit pugliese tra Meloni e Salvini, spiega il quotidiano La Repubblica. E poi cosa salta a questo punto? Quali sono i punti che rischiano di saltare dalla manovra? Fornero, sanità e flat tax, i sogni restano nel cassetto. Non sarà facile portare a casa una legge di bilancio da 25-30 miliardi senza fare deficit. Ecco perché, oltre alla cruciale conferma delle misure per i lavoratori, non ci sarà spazio per molto altro. E in particolare le pensioni addia alla quota 41 e saltano le minime a 1.000 euro. Nessun margine per supplenti e carostanze. Gli ospedali non vedranno i 4 miliardi richieste per quanto riguarda ovviamente scuola e sanità. Nella pubblica amministrazione ha rischio ai fondi per il rinnovo dei contratti e sul comparto grava l'impatto dell'inflazione. E poi la tassa piatta estesa anche ai dipendenti, la cosiddetta flat tax per i dipendenti, resta solo una promessa, così la Repubblica. Intanto il tema che riguarda ovviamente anche la questione del generale Vannacci, inni, spot e insulti, il frontemofobo che il leader leghista ora punta a guidare. Il ministro assieme al sottosegretario Morelli intonò amici gay da Fratelli d'Italia a Forza Italia il campionario attori delle sortite anti-gender fino all'invito alle passate regionali venete. Non votate con il culo. Questo è il percorso di Repubblica di Paolo Berizzi che racconta ovviamente il fronte del centro della destra omofoba. Napoli omosessuali sono contro natura ostellari, dare del frocio non è offensivo. Parla però il vicepresidente della Camera ed ex sottosegretario della difesa Giorgio Moulet, Crosetto ha ragione, no a giochi politici con l'esercito. Non ho letto il libro e non lo farò, mi è bastato vedere la quarta di copertina. Di sicuro non avremo problemi nel governo, abbiamo superato ben altri scogli, questo spiega ovviamente Moulet. Parla anche il professor Franco Cardini che dice il generale non ha studiato, Giulio Cesare di sicuro era bisex. L'esercito spesso serve cause sbagliate, più che macismo c'è una forza di inerzia conservatrice. Cardini è un brutto libro? Un tratto di sociologia storica rischia di scivolare nel brutto se l'autore non è abbastanza preparato. Ci sono molte cose interessanti che però si perdono nell'insieme. Mi ha per esempio sorpreso che un generale che è stato a capo dell'Istituto Geografico Militare se la prenda con i migranti ignorando la ragione profonda del fenomeno, cioè lo sfruttamento del territorio da parte delle multinazionali che hanno ridotto le popolazioni alla fame. Da quello che scrive sembra quasi che partono per fare una gita in gommone. A indignare è stata anche la sua definizione dei gay come anormali. E Platone e Socrate è il concetto stesso di normalità che è stato superato per studi scientifici ma anche etici. Se il tema è la morale cattolica anche in questo caso dovrebbe aggiornarsi. Se qualcuno domani impazzisse e decidesse di proporre una legge per far diventare reato l'omosessualità io sarei tra i primi a battermi per fermarla. E non sono certo un progressista ma la società è laica. Nell'esercito continua a esserci una deriva macista, omofaba, fascista. Sono stato ufficiale di complemento. A me l'esercito fa simpatia. Spesso però, non per colpa sua, serve cause sbagliate. Nell'esercito come nella società ci sono sacche di resistenza più che di macismo. Parlerei di forza di inerzia conservatrice. Bisogna avere un po' di pazienza. I cambiamenti hanno bisogno di tempo. Cos'altro non l'ha convinta del libro? Parla della necessità che l'uomo si imponga sulla natura. Fai ragionamenti di mio padre negli anni Sessanta quando si pensava che le risorse fossero infinite. Gli consiglio di leggere il filosofo Chomsky sul progresso. Questo spiega il professor Franco Cardini, docente, 83 anni, intervistato oggi dal quotidiano La Repubblica. Andiamo avanti sempre con i titoli all'interno del quotidiano La Repubblica. La forza di una mamma da tre anni in viaggio per ritrovare mio figlio. Roberta è a Napoli sulle tracce di Alessandro, scomparso nel 2020. Vivo con la sua foto nella borsa, ma lo Stato mi ha lasciato sola. La storia di Alessandro Venturelli che scompare da Sassuolo il 5 dicembre del 2020 portando con sé un solo zainetto con un metro d'assarto, un telo e uno scotch. Da un mese diceva di sentirsi manipolato, aveva iniziato a segnare le targhe delle auto ed era spaventato al punto da voler dormire con i genitori. Negli ultimi 32 mesi diverse testimonianze lo collano in varie città, prima a Cesenatico, poi nel centro Italia, infine nei Paesi Bassi. Domenica dei vigilantes lo individuano alla stazione di Napoli. Pochi giorni prima dei testimoni lo riconoscono in diversi punti della città. Andiamo avanti sempre con i titoli del giorno. Sul tema ovviamente l'accoglienza dei migranti. Dirottati 100 migranti, il Viminale cede alla rivolta dell'Emilia. Destinati altrove dopo la protesta di Bologna, lo Stato si è arreso, ma la situazione resta esplosiva. Gli ultimi 29 sistemati in hotel, questo spiega il quotidiano La Repubblica. E sul tema dei migranti le parole del Delegato Anci e Presidente e Sindaco di Prato, Matteo Biffoni, nel servizio di Toscana Tg. Chiediamo collaborazione istituzionale e chiediamo di ascoltare le nostre preoccupazioni, che sono le preoccupazioni di tutti i sindaci sui territori, perché di questo noi ci occupiamo. Il Sindaco di Prato, Matteo Biffoni, Presidente dell'Anci Toscana e Delegato Nazionale Anci sull'immigrazione, rinnova l'invito al Governo a cambiare impostazione sulla gestione degli sbarchi e dei migranti. Una situazione sull'orlo del tracollo in Toscana, dove domani arriverà la nave Open Arms con 196 migranti. Attraccherà a Carrara, giudicato Porto Sicuro per la sesta volta da gennaio. Numeri che portano il totale toscano a quasi 10.000 migranti, di cui circa 8.000 nei CAS. Stracolmi e con l'impossibilità di usare i posti vuoti nei SAI a causa del decreto Cutro. E poi c'è l'emergenza. Nell'emergenza, quella dei minori non accompagnati, senza struttura d'oc, pesa tutto sulle spalle dei sindaci. Il Governo ribatte che la Toscana non ha firmato lo stato di emergenza, ma Biffoni riporta lo scontro sul piano pratico, invitando il Governo a evitare l'ideologia. A definire surreale una preoccupazione di tutti i sindaci, compreso quelli di centro-destra, sull'accoglienza i minori esteri sono accompagnati, oltre 25.000 sul nostro territorio, con le strutture sature, con i bandi delle prefetture che vanno deserti e con l'impossibilità di rivolgerci a chi ci ha sempre aiutato, cioè al terzo settore. Nell'accoglienza crediamo che non sia utile per il Paese, non sia utile per provare a governare questo fenomeno. Noi siamo pronti a farlo, chiediamo collaborazione istituzionale e chiediamo di ascoltare le nostre preoccupazioni, che sono le preoccupazioni di tutti i sindaci sui territori, perché di questo noi ci occupiamo. Andiamo avanti con i titoli che riguardano anche il cambiamento climatico e come incide questo anche da un punto di vista dei prezzi. Il Papa e l'estate della crisi climatica. Sto aggiornando l'enciclica Laudato Si. Questo è il titolo ovviamente che riguarda il Pontefice. Dobbiamo ricordare che le giovani generazioni hanno diritto a ricevere da noi un mondo bello e vivibile. Intanto il nuovo record dello zero termico sulle Alpi è la seconda volta a due mesi. Il 25 luglio era salito a 5.184 metri. Ieri ha toccato quota 5.328. Nella foto l'osilitamento del ghiacciaio Marmolada l'anno scorso. E poi la decisione di Ferrovie dello Stato alla conquista delle tratte del nord, un treno per l'Europa. Il caro voli e l'attenzione per l'ambiente spingono i collegamenti su rotaia. Le Ferrovie dello Stato puntano su Amsterdam, Bruxelles e Germania. Questo grazie all'integrazione delle reti ad alta velocità. La Commissione europea punta a creare uno spazio europeo per un ferroviario unico. Il quarto pacchetto del dicembre 2019 ha dato spinta alla concorrenza. Le ferrovie puntano a 5 miliardi di treni esteri. Al piano al 2032, 8 miliardi attuali. Trenitalia investirà 15 miliardi anche per acquistare treni per l'estero. Andiamo avanti sempre con i titoli del giorno. Lo facciamo con il quotidiano La Nazione. Vedete il tema che riguarda la manovra in primo piano con il nuovo fisco. Conti correnti nel mirino con l'algoritmo antifurbetti. La strategia digitale dell'Agenzia delle Entrate si parte dai dati relativi al 2017. Il tesoro stima 2,8 miliardi di incassi in più entro il 2025 dalla lotta all'evasione. Questa è una delle opportunità che riguardano il nuovo fisco. Poi c'è anche la versione di calenda. È ovviamente il titolo che riguarda il leader di azione. Accordo possibile con la Premier sul salario minimo. Il leader di azione, lavorare con il CLEL non è affatto un problema. Il taglio del cuneo, certo, ma bisogna prima pensare alla sanità. Per me il campo largo non esiste. Come ci si può accordare con i grillini? Questo spiega Calenda, intervistato oggi dal quotidiano nazionale La Nazione. Poi siamo ovviamente all'interno del quotidiano La Nazione con invece l'italiana del Louvre. Le persone devono potersi muovere. L'arte è una realtà aperta. Roberta Serra, 48 anni, ricercatrice del Dipartimento di Arti Grafiche del Louvre. Da 20 anni a questo Dipartimento non mi sono mai sentita straniera. Il nostro è un ambiente fatto di scambi. È sbagliato. Creare barriere. Accogliamo sempre studenti da tutto il mondo. Questo ovviamente il racconto. E poi i temi che riguardano anche lo sfogo di Elon Musk che spiega X potrebbe fallire e sfida ancora meta. Il CEO di X, ex Twitter, ce la metteremo tutta ma l'ex Twitter non naviga in buone acque. La stoccata a Zuckerberg. Non ci sono grandi social in questo momento. Così spiega Elon Musk ovviamente a proposito anche dei social. Siamo all'interno del quotidiano invece La Nazione con le notizie che arrivano ovviamente anche dall'estate. Vedete i titoli, no? Le storie dell'estate dalla parte di chi lavora. La Spezia in un ristorante di Monte Rosso. Siamo alle Cinque Terre. Lo Sceicco e la Maxi Mancia. Qui si mangia bene e lascia. 1.800 euro di mancia ai camerieri. E poi la rivolta di Niccol Fornaio. Il mio ferragosto chiuso. Tanti sono d'accordo con me. Arezzo preferisce una vita sana ai soldi. Questo spiega ovviamente questo Fornaio. Siamo all'interno ovviamente del quotidiano La Nazione. E vedete anche i temi che riguardano l'ecotutela toscana. Rispetto l'ambiente ma ci sia il coraggio di guardare al futuro. Il tema ovviamente che riguarda in questo caso la realizzazione del parco eolico in Toscana con l'intervento del governatore Gianni che spiega come amministratori abbiamo il dovere di amalgamare le esigenze. Questo è l'intervento ovviamente del quotidiano, sul quotidiano La Nazione di oggi del governatore Gianni. E vedete anche la capacità di impianti e di generazione. La fonte è terna. Siamo nell'anno 2022. Per quanto riguarda il termo elettrico, il fotovoltaico, il germo elettrico, l'idrico e l'eolico in Toscana la potenza ovviamente efficiente in megawatt. Dobbiamo abbandonare il fossile. È grottesco. Chi dice sempre no spiega ovviamente il Bonelli dei Verdi intervistato. e poi il caso del progetto in Mugello a Dicomano e Vicchio, il caso di Badia del Vento sul quale interviene ovviamente il capogruppo di Forza Italia Regione Marco Stella che spiega sul progetto di Badia del Tedalda così ovviamente non si risolve. E infine volano i numeri delle nuove connessioni rinnovabili in Toscana più di 15.000 impianti da gennaio a luglio. e questo è sicuramente un dato che deve far riflettere. Una notizia che poi ritroveremo nella rassegna stampa locale è sicuramente quella sulla FIMER. L'azienda è salva. Firmato l'accordo, ok all'acquisto. McLaren-Greybul, un'intesa da 50 milioni per il 100% delle quote dell'azienda retina che produce inverter fotovoltaici. Dunque per l'azienda di Terra Nuova finalmente uno spiraglio importante. Torniamo anche sulle prime pagine di oggi per quanto riguarda ovviamente il tirreno perché avevamo visto ovviamente anche proprio sul tirreno di Firenze. Eccolo qua. Nardella che scrive a piante dosi servono 200 agenti in più. E quindi il tema della sicurezza è un tema centrale in questo momento per quanto riguarda la città di Firenze il servizio di Toscana TG. Il primo cittadino di Firenze Dario Nardella ha scritto al ministro dell'interno Matteo Piantedosi una lettera dove chiede 200 agenti in più. Il sindaco ricorda che se da un lato Firenze è una città che conta una popolazione di circa 380 mila abitanti dall'altro ogni giorno le presenze sul territorio comunale raddoppiano letteralmente per ragioni di lavoro, studio e turismo. Inoltre le forze dell'ordine sono quotidianamente impegnate in attività non ordinarie come le scorte alle autorità civili e giudiziarie legate anche all'attività della Scuola Superiore e della Magistratura di Castelpulci o i presidi ai numerosi eventi e manifestazioni con la presenza di pubblico e spesso di autorità di primo livello nazionali e internazionali. La somma di questi aspetti fanno del capoluogo toscano una città il cui bisogno di sicurezza non può essere parametrato al semplice dato demografico residenziale. A tutto ciò si sommano, sottolinea il sindaco, le criticità dovute a un aumento di immigrati non regolari e fenomeni di microcriminalità quali spaccio, aggressioni e reati predatori soprattutto nelle aree della stazione ferroviaria di Santa Maria Novella e del Parco delle Cascine nonché a una diminuzione dei presidi militari dell'operazione Strade Sicure. Pertanto, pur riconoscendo il grande sforzo che le forze dell'ordine già presenti svolgono con profitto significativo, scrive il sindaco, le sottopongo la necessità e l'urgenza di adeguare i contingenti presenti alla rilevanza effettiva della nostra città affinché tutta la popolazione, i vi inclusi gli utenti occasionali possano vivere lo spazio pubblico in modo libero e sicuro. A rendere ancora più necessaria questa misura conclude via il fatto che i sindacati di polizia abbiano annunciato con preoccupazione che entro fine anno potrebbero venire meno circa 100 agenti soprattutto in virtù dei pensionamenti. Un tale depauperamento aggraverebbe oltremodo l'attuale situazione di carenza di organico con danno alle comunità e all'immagine della città e delle istituzioni tutte. E adesso andiamo avanti con il titolo ovviamente del quotidiano nazionale edizione di Firenze, l'apertura SOS medici nei paesi sono spariti sempre più difficile coprire centri e frazioni lontani dalle città è il titolo di apertura, troppi disagi e spese per i professionisti anche Firenze in affanno per pensionamenti e guardie mediche chiuse e la regione studia incentivi e quindi la presenza dei medici di famiglia è sicuramente un tema centrale in questo momento per quanto riguarda la sanità territoriale. A centropagina poi migranti, si rischia il caos da oggi nuovi arrivi potrebbero mettere a dura prova l'accoglienza intanto nelle ultime ore sei donne e due bambini sono arrivati all'impruneta poi nel taglio alto vedete abbandono, rifiuti e posti letto l'ex ostello della gioventù a rischio occupazione siamo praticamente nella zona di Viale Righi a Firenze ancora avanti con i titoli del quotidiano La Nazione nelle pagine ovviamente locali vedete il titolo che riguarda i medici se con Pioppi è troppo lontana siamo in una frazione alle porte di Firenze nel comune di Fiesole medici spariti, paesi sguarniti la regione studia un bonus per chi lavora nelle aree isolate più ci si allontana da Firenze più è difficile trovare professionisti disposti a prendere servizio disagi anche in città fra pensionamenti e guardie mediche chiuse per motivi di sicurezza questo spiega ovviamente il quotidiano La Nazione in Edicola oggi poi con il camice suo e giù nel Mugello per raggiungere un paziente mi ci vuole anche un'ora d'auto la dottoressa Celano è medico di famiglia titolare nel comune di Scarperia e San Piero dalle 8 alle 10 rispondo alle telefonate poi oltre agli spostamenti c'è tutta burocrazia questo spiega il quotidiano La Nazione facendo riferimento anche al lavoro dei medici sul territorio siamo ovviamente all'interno del quotidiano La Nazione con i migranti dai CAS al caos aumentano gli arrivi Croce Rossa in campo sistema al collasso la Toscana accoglierà nei prossimi giorni circa 300 profughi ma le cooperative fiorentine cominciano ad alzare bandiera bianca degli innocenti della misericordia nuovi posti solo se gli ospiti fuggono altrimenti posti nuovi non ce ne sono questo spiega Stefano degli innocenti volontari della misericordia non abbiamo più posti nelle nostre strutture anche se dalla prefettura arrivano continue richieste e disponibilità questo spiega Stefano degli innocenti intanto la storia che arriva ovviamente da San Godenzo c'è chi punta sull'integrazione dove nella frazione di San Godenzo di Castagno d'Andrea diciamo alle pendici del Falterona 170 persone in tutto è cresciuta di colpo la popolazione 40-50 persone in più perché sono arrivati ovviamente i profughi e si spiega come in questo caso la frazione è tornata per certi versi a una nuova vita siamo ancora all'interno del quotidiano La Nazione il decoro ferito ex ostello della gioventù bivacco o discarica viaggio nell'abbandono tra macerie e postiretto il complesso La Camerata verrà trasformato in hotel di lusso i residenti del Salviatino per ora non si sentono tranquilli via vai notturno di almeno una quindicina di stranieri il cancello è chiuso ma nella recensione è stato aperto un passaggio è da qui che entrano e il cronista della Nazione entra all'interno della struttura e vedete ovviamente tutto quello che potete vedere abbandono di materassi su pellettile e quant'altro abbiamo visto un bel rifrullo per tutto agosto sono tutti maschi e sembrano adulti ovviamente persone che scelgono di dormire all'interno di questa struttura saluto in collegamento con noi il presidente del quartiere 2 di Firenze Michele Pierguidi che dovrebbe essere collegato non so se lo vedo collegato non so a regia si Andrea buongiorno buongiorno ben trovato presidente visto che questa struttura che è di proprietà privata si trova però nel suo quartiere presumo che ho letto che lei da mesi se ne sta occupando volevo avere così volevamo capire entro quando inizieranno i lavori e magari si potrà arrivare a una normalizzazione della situazione guardi entro quanto cominciando i lavori io non glielo so dire perché è una proprietà privata e quindi non non glielo so dire non certezza quello che so dire non certezza è che lì ci sono delle presenze sicuramente che portano del degrado della insicurezza sono stati fatti i buchi nella rete ci sono persone che ci dormono e vengono fatti lì e anche nei giardini degli ulivi quelli in via Augusto Richi molto belli del nostro quartiere dei traffici diciamo così non molto legali quindi è sicuramente una situazione da tenere sotto controllo alto io ne parlo settimanalmente con i carabinieri faccio presente nella situazione spero davvero che si possa in qualche maniera interrompire in privato per quanto riguarda i lavori all'ex ostello e quindi anche la messa in sicurezza del luogo perché è a forte rischio di occupazione fortissimo rischio di occupazione e sicuramente non è quello che serve diciamo così al quartiere e nemmeno alla città visto anche quello che è successo all'Astor e altre occupazioni e è a forte rischio e sicuramente queste presenze sono presenze che nella cittadinanza creano preoccupazione una giusta e oggettiva preoccupazione che si vede ogni giorno all'ostello ma anche nei giardini accanto i giardini degli olivi che sono un luogo bellissimo dove la sera adesso sicuramente non c'è la sicurezza dovuta a una città civile come la nostra e sul tema della sicurezza avrà sicuramente insomma avrà sicuramente recepito la richiesta del sindaco Nardella che ha chiesto a piante dosi 200 agenti no è Nardella che ha recepito la mia quindi va benissimo ah è Nardella che ha recepito la sua sì come è successo anche per lo stadio Franchi insomma è la linea per guidi che anche voi la seguite dal sindaco ha dettato lei la linea ho capito va bene allora è inutile che chieda è inutile chiedere la mia veramente la mia è una battuta ma condivido appieno Firenze ha bisogno di agenti in più ha bisogno di persone a presidiare il territorio noi non abbiamo paura delle difese anzi auspichiamo che possono essere presenti sul territorio e dare sicurezza al quartiere era molto importante anche la la presenza alla caserma Pedieri dell'esercito che ora in questo momento si è un po' ridotta noi chiediamo che il territorio sia presidiato perché ce n'è bisogno ce n'è bisogno purtroppo ce n'è sempre più bisogno Presidente le chiedo un attimo di pazienza andiamo in pubblicità poi torniamo che dobbiamo parlare di aumenti dei prezzi ma particolari che riguardano in questo caso l'attività sportiva dei figli tra poco lo facciamo restate con noi su Refresh su Toscana TV e Firenze TV a tra poco il bar è tutto il panettoni il pane fresco pure l'enoteca se ha proprio tutto allora il bar Valentina Bar Valentina un solo bar per mille servizi vi interessa scoprire come poter risparmiare sui costi fissi ai quali non potete rinunciare Davide Zaccaria di Crida Vitalia Energie del Futuro leader da oltre 25 anni nel risparmio energetico fateci venire direttamente nella vostra casa nella vostra azienda per dimostrarvi quanto risparmierete sui costi fissi Crida Vitalia Energie del Futuro Eccoci qua gentili telespettatori di Toscana TV e Firenze TV di nuovo ben trovati a Refresh buona giornata da Andrea Vignolini è martedì 22 agosto 2023 torniamo con Michele Perguidi presidente del quartiere 2 in collegamento con noi e con una notizia che abbiamo letto sabato su Repubblica Firenze una notizia che vogliamo commentare insieme al presidente da sempre diciamo vicino allo sport le attività per i figli per un anno di sport una famiglia spende da 400 a 1000 euro nei tanti aumenti ovviamente che sono scattati quest'anno tra iscrizioni visita medica e kit di gioco fare pratica sportiva è diventato oneroso il calcio ha aumentato i prezzi atletica e basket con richieste in crescita l'articolo di Duccio Mazzoni che racconta ovviamente quelli che sono i costi che una famiglia deve sostenere per l'attività sportiva dei propri figli il calcio 300 euro più 100 di materiale la spesa necessaria per un anno di scuola calcio il mini basket per iscrivere un bambino servono tra i 350 e i 450 euro di media la quota comprende il materiale il nuoto una lezione di 40 minuti costa 5 euro e 50 ma per chi vuole fare attività agonistica si spendono tra i 700 e i 900 euro l'atletica la pallavolo il tennis tutti ovviamente le discipline sportive che vengono diciamo così elencate nell'articolo di Duccio Mazzoni su Repubblica articolo che è uscito sabato ripeto presidente tra le tante spese a cui devono far fronte le famiglie e sappiamo qual è il carico in questo autunno che si annuncia molto caldo su questo fronte c'è anche quello dello sport dei figli non c'è dubbio sarà sempre peggio perché le nuove leggi la legge sullo sport aumenta di molto le spese per le società sportive c'è un lavoratore sportivo che chiaramente e giustamente però costa molto di più di quello che era prima che era pagato a compenso sportivo fino a 10.000 euro e quindi cambia le carte in tavola e di molto e aggravia i costi per le società sportive e c'è anche lo svincolo dove le società sportive facevano un'attività di un certo livello potevano in qualche maniera vincolare i ragazzi fino a una certa età e poi in qualche maniera avere anche degli indennizi dal prossimo anno non ci sarà nulla di tutto ciò e quindi l'attività sportiva che costa molto di più di quello che la famiglia paga diretta perché l'attività sportiva costa molto di più ci sono i campi di allenamento le palestre il riscaldamento le federazioni sportive gli allenatori le trasferte insomma è molto oneroso portare avanti l'attività sportiva costerà ancora di più non ci sarà la sicurezza di avere una programmazione annuale perché i ragazzi potranno andare dove vorranno anno dopo anno sicuramente porterà un aggravio dei costi importante per le società sportive che inevitabilmente saranno in qualche maniera riversate anche sulle famiglie quindi l'attività sportiva costa di più quest'anno poco di più il rischio è che se non cambia qualcosa costerà molto di più il prossimo anno il punto diciamo guardando su un orizzonte temporale più lungo gli aumenti rischiano di essere decisamente più ingenti per le famiglie per la riforma che è stata portata a termine diciamo per le società sportive che comunque pesa sui costi complessivi delle società stesse questo è il problema beh pesa tantissimo pesa tantissimo noi dovremmo fare le società sportive dovranno fare per la prima volta delle buste paga quindi un consulente del lavoro pagare contributi per quanto riguarda gli allenatori e quello che era un compenso sportivo diventa uno stipendio a tutti gli effetti è sicuramente una cosa anche giusta ma è sicuramente una cosa che comporta un'organizzazione diversa quindi dei pagamenti diversi e dei costi aggiuntivi non esiste quasi più la figura del volontario bene non esiste più non si sa come inquadrare un custode o uno che fa le pulizie è un po' complessa complicata e sicuramente molto molto onerosa e non sottopauserei anche quella del vincolo sportivo perché per alcuni sport tipo la palla canestro la palla a volo era un modo per alzare il livello di asticella dell'attività quindi avvalersi di allenatori professionisti tecnici preparatori atletici medici filoterapisti tutto quello che comporta avere un'organizzazione di un certo livello perché poi poteva esserci in qualche maniera una continuità sportiva e anche una remunerazione per quanto riguarda la società sportiva come indennizi se quest'atleta in qualche maniera faceva un certo tipo di carriera tutto questo viene vanificato dall'eliminazione del vincolo sportivo dove le società sportive non sapranno a giugno hanno un certo tipo di attività a settembre rischiano di averne un'altra perché i ragazzi potranno andare via le ragazze potranno andare via anche senza dire nulla alla società che li ha cresciuti quindi a mio avviso questo comporterà o un abbassamento enorme di un livello tecnico le società si affideranno a personale meno costoso ma anche meno competente per risparmiare oppure a un aggrado dei costi per le società sportive che inevitabilmente sarà poi riversato alle famiglie che saranno interessate a fare un'attività di un certo livello quindi secondo me ci sono i tempi per mettere delle correzioni bisognerebbe che qualcuno ci studiasse bene e mettesse un po' di correzioni grazie al presidente del quartiere 2 Michele Pierguidi che è stato con noi grazie mille presidente buona giornata buon lavoro grazie a voi volevo dire una cosa Andrea c'è sempre più bisogno di sicurezza anche perché con questo governo sono triplicati gli sbarchi c'è chi ha fatto campagna elettorale su questo sull'accise della benzina insomma non mi pare però aspetti presidente sull'accise della benzina in tanti hanno promesso l'abbassamento e poi Draghi l'aveva tolte Draghi un non politico Draghi l'aveva tolte esatto un non politico un non politico Draghi l'aveva tolte chi ha fatto campagna elettorale sull'accise della benzina senza fare nome e cognome Giorgia Meloni le ha rimesse a suo tempo a suo tempo anche Salvini che prima cascarono in questo in questo tranello chi ha fatto campagna elettorale sui barconi è costato che siano triplicati gli sbarchi quindi blocchi navali affondamenti di navi nei porti non si può fare niente di tutto ciò e poi presidente lei lo sa bene c'è tutto il tema dei minori non accompagnati che crescono in modo esponenziale perché arrivano navi cariche di minori non accompagnati quelli vanno accolti starebbe allo Stato ma se ne fanno carico i comuni e lei sa bene poi le problematiche che porta però questo messaggio era per chi pensava di aver votato Giorgia e invece ha votato Carola grazie presidente buona giornata prego buongiorno andiamo avanti sempre con i titoli del giorno eravamo rimasti sul quotidiano Nazione alla situazione ovviamente dell'ostello dell'ex ostello Camerati in Viale Righi siamo ovviamente anche all'interno proprio vedete per riprendere anche il tema della sicurezza lo fa la Nazione nelle pagine interne sicurezza e ordine pubblico Nardella al ministro Pian De Dosi in città servono 200 agenti in più 200 agenti in più il sindaco di Firenze torna alla carica e questa volta si rivolge direttamente al titolare del Viminale per una città di oltre 100 km quadrati è essenziale avere molte più forze dell'ordine sul controllo del territorio questo è il dato che riguarda il comune intanto c'è una denuncia che riguarda il caos in via di Villamagna la denuncia dei cittadini urla schiamazzi gente che gioca a pallone fino a tardanotte e lo spiega ovviamente c'è l'intervento anche del capogruppo della Lega in comune Federico Bussolin andiamo avanti sempre con i temi che riguardano ovviamente in particolare le sfide della mobilità e su tutte diciamo lo scudo verde scudo verde lite sul ticket ma non ci sarà prima del 2026 fa discutere l'ipotesi del pedaggio di ingresso in città per determinati mezzi Fratelli d'Italia e Lega Critici ma Giorgetti tutto da definire e comunque solo a tramvia finita a gennaio partirà il monitoraggio dei mezzi in ingresso a Firenze 78 le porte telematiche utilizzate questo spiega il quotidiano la nazione andiamo avanti sempre con i titoli del giorno lo facciamo anche con ovviamente le notizie che arrivano dalla città metropolitana e in particolare da Bagnarripoli dove c'è un'intervista al sindaco di Bagnarripoli Francesco Casini Casini opere future e terzo mandato da dormitorio dorato a città centrale intervista al primo cittadino di Bagnarripoli ricandidarmi se potessi lo farei per concludere il lavoro avviato e dunque si dice favorevole ovviamente al terzo mandato fosse possibile un terzo mandato si ricandiderebbe sicuramente risponde Casini in questa intervista Emanuela Plastina oggi sul quotidiano La Nazione di Firenze andiamo avanti ovviamente con i titoli del giorno lo facciamo anche con il quotidiano La Repubblica di Firenze che rivela questa notizia bomba in 15 scuole toscane le lezioni si faranno nei container da Firenze a Grosseto migliaia di ragazzi torneranno in classe nei moduli prefabbricati e contro la crisi vola il mercato dei libri usati molti li vendono direttamente tramite i social andiamo poi all'interno ovviamente del quotidiano La Repubblica di Firenze vedete per migliaia di studenti la prima campanella suona nel container perché questo? Perché c'è sovraffollamento c'è mancanza di strutture e lavori in corso ma anche a pil di certi corsi ecco dove nella regione le lezioni inizieranno nei prefabbricati a Firenze interessati le classi di Peano e Sassetti Peruzzi in Mugello ancora per gli effetti post-sisma corposo anche l'intervento di ristrutturazione con adeguamento sismico per 7 milioni totali della scuola media in via Monsignor Giuliano Agresti a Barberino del Mugello nel frattempo i 300 alunni e il personale scolastico si sposteranno nelle strutture prefabbricate in via Aldomoro a Borgo San Lorenzo sono iniziati i lavori al plesso della scuola secondaria di primo grado Giovanni della Casa efficientamento energetico adeguamento sismico e funzionale finanziati con 5 milioni di euro per accelerare le tempistiche dei lavori e non interferire con l'attività didattica nel corso dell'anno alcune classi si sposteranno a fare lezioni in prefabbricati scolastici poi ovviamente a Grosseto a Livorno poi il campo di Marte a Firenze come abbiamo detto il piano e poi ancora San Marcello Pistoiese a Castelnuovo Berardenga via via vengono elencati nel pezzo di Antonio Palumbo tutte le scuole intanto il tema che riguarda i bus gratis per gli studenti da domani le domande per avere l'abbonamento scontato bus gratis da domani le domande ma si paga un'iscrizione di 50 euro studenti e neoviaggiatori versano invece 110 euro se non presentano un'isee di qualunque importo il comune salda la tessera agevolazioni anche per gli abbonati storici spiega il quotidiano la Repubblica di Firenze dunque da domani gli studenti in particolare potranno richiedere l'abbonamento gratuito presentando l'isee poi siamo sul tema invece della didattica il caro Libri è un salasso fino a 37% in più in una classe del liceo quello che sembra essere un primato negativo spetta alla terza D del Michelangelo meglio negli istituti tecnici e poi il ritorno di fiamma per i volumi usati affari a livelli pre-covid prenotazioni record e adesso ad alimentare gli scambi ci sono anche i canali social spiega il quotidiano la Repubblica di Firenze poi siamo alla FIMER stavolta ci siamo trovato l'accordo con McLaren e Greybull pronti 50 milioni per il rilancio degli stabilimenti di Vimercate e Terranova Bracciolini manca solo il via libera del Tribunale e poi ancora sicurezza l'assessora Albanese assessora della sicurezza del Comune di Firenze attacca la Lega perché a Pisa i militari e a Firenze no il deputato Ziello si era vantato per i rinforzi a strade sicure sotto la torre Nardella scrive al ministro a Pisa dove governa il centro-destra sono stati annunciati 15 nuovi militari dell'esercito a presidiare la città il deputato leghista Edoardo Ziello se ne è preso il merito con l'assessora della sicurezza Benedetta Albanese che contraattacca a Pisa dove al governo la Lega ha enormi problemi di sicurezza e giustamente chiede aiuto allo Stato vantandosi poi di aver ottenuto agenti in più e persino militari dell'esercito intanto la situazione dei regozianti in piazza stazione a Firenze flagellati da furti e minacce rivolgiamo il presidio fisso l'ultimo episodio da Mr. Price dove un uomo ha puntato un paio di forbici al commesso e poi è fuggito con una quindicina di vestiti ancora all'interno del quotidiano la Repubblica di Firenze con quello che accade sul fronte dell'RSA nuova emorragia di infermieri manca personale per assistere gli anziani la fuga di addetti provocata da un bando di assunzione della ASA che sottrae risorse umane alle strutture e ai responsabili gli stipendi del pubblico sono più attrattivi noi non possiamo permetterceli carenza anche di operatori sociosanitari l'articolo di Andrea Vivaldi che spiega che gli OS devono essere formati dalle aziende sanitarie che lo fanno sulle loro esigenze intanto il clima in Toscana e a Firenze AFA fino a venerdì e domani 40 gradi primato in Italia domani in attesa una giornata di caldo africano nel capoluogo toscano e infine questa notizia che riguarda un mistero all'argentario il mistero dell'urna cineraria sulla spiaggia della Giannella è stata ritrovata da alcuni bagnanti dentro c'erano dei sassi e sul tappo c'era la scritta cimiteri capitolini è stata ritrovata dai bagnanti sulla rinomata spiaggia della Giannella all'argentario ed è un mistero quest'urna cineraria andiamo avanti con i titoli del Corriere Fiorentino l'apertura nuovi sbarchi vecchia polemica oggi l'arrivo di 196 migranti a Carrara scontro frontale Toscana governo Biffoni spiega è inaccettabile il sindaco di Luca Pardini critica la regione andiamo avanti sempre con i titoli che leggiamo ovviamente all'interno del quotidiano il Corriere Fiorentino vedete Toscana Viminale muro contro muro è il titolo che riguarda ovviamente la gestione inaccettabile e poi oggi lo sbarco di 196 a Marina di Carrara altri 100 via terra da Sicilia e Calabria ancora avanti sempre con i titoli del diciamo così che riguardano ovviamente l'accoglienza e in particolare il sindaco Pardini di Lucca che spiega sì i comuni vanno incontro al disastro ma se ci fosse il CPR in provincia ci sono criticità a Lucca la situazione è sotto controllo ma chissà se lo sarà tra un mese nel 2018 c'erano anche più arrivi oggi non ci sono solo partenze né ripatri né divisioni con l'Unione Europea così ovviamente il Corriere Fiorentino in edicola oggi e poi il mare dei tropici in Toscana non c'è solo il granchio blu è il titolo l'allarme dell'ARPAT i cambiamenti climatici stanno stravolgendo l'abitat e quindi non soltanto il granchio blu e poi il covid non è sparito rivela il Corriere Fiorentino perché ci sono 441 casi in una settimana contagi raddoppiati rispetto a luglio l'infettivologo chi ha l'influenza stia a casa menichetti del GISA i sintomi delle nuove varianti spesso sono lievi ma importanti per persone fragili e anziani e dunque questa è la notizia che riporta il Corriere Fiorentino il covid è tutt'altro che sparito stando ovviamente agli oltre 441 casi che sono stati rilevati in questa settimana siamo ovviamente al Corriere Fiorentino con Jovic che resta fuori il serbo non inserito nella lista dei giocatori che potranno giocare le partite europee dai proclami della scorsa estate ai paragoni di commisso e ora potrebbe partire questo spiega il quotidiano il Corriere Fiorentino ricordando anche le slide del presidente in cui paragonava i gol tra Chiesa e Vlaovic a quelli tra Jovic e Cabral andiamo anche all'interno ovviamente della nazione con ovviamente i titoli che riguardano il QS Sport e in particolare le notizie che riguardano ovviamente la Fiorentina Ambra Bat spiega il quotidiano la nazione impaziente inglese duello United-Liverpool ma entra in scena la Liga anche l'Atletico ci pensa il futuro pare lontano da Firenze anche se manca una vera offerta per il club viola e questo può rappresentare sicuramente un problema quarta il Betis non si sbilancia solo 8 milioni con 8 milioni quarta non dovrebbe partire dovrebbe restare alla Fiorentina e poi siamo ovviamente al tema che riguarda in questo caso l'attacco per la partita di giovedì con Conto e Rapid Vienna Zola o Beltran si domanda la nazione il dubbio più bello ma possono pure giocare insieme con l'inizio della corsa europea si rinnova il duello tra i centri avanti italiano l'ex Rivelpreit scalpita spiega ovviamente la nazione in edicola oggi e poi sempre all'interno ovviamente già febbre per il ritorno tutti in coda sul web disponibili i biglietti per la gara di giovedì 31 agosto alle 20 allo Stato e Franchi tra Rapid Vienna e Fiorentina e il ritorno appunto di conference del playoff di Conference League termina qua questo appuntamento di refresh per la giornata di oggi noi vi aspettiamo puntuali come sempre domani mattina a partire dalle 6.50 ad Andrea Vignolini a tutti voi l'agure di una felice giornata Ale a tutti voi Grazie.